Il livello di entusiasmo sta salendo qui a Lungaro Il livello di un'automobile Grazie a tutti. 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 Stai andando bene, continua così. Ci aspettano circa altri dieci minuti di piotta. Dieci minuti. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Grazie a tutti. Il nostro miglior giro finora è 1,24,2. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.